Quando penso ai nostri siti produttivi, penso a 35 anni di storia, fatta di tante persone e passione. Penso ai nostri prodotti freschi e alla qualità che ci contraddistingono, dovuta alla continua innovazione, ma soprattutto penso ai miei 120 collaboratori che con me mettono passione e orgoglio per portare i nostri prodotti De Angelis sulle tavole delle famiglie di tutto il mondo. Voi rappresentate la De Angelis, insieme vogliamo tramandare la nostra tradizione, la nostra storia e il piacere di fare i migliori prodotti al passo con i tempi. Oggi, tutti insieme, vogliamo continuare a scrivere tante nuove pagine della nostra storia, da tramandare a chi, con noi, vorrà costruire un futuro ricco di novità e creatività. De Angelis, anima creativa.